bravo ci vediamo tre giù tre giù da te ci vediamo ci vediamo la prossima volta ci sono un berardino capito in giro ci sei Carlo? io sono un berardino ciao 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 Che c'è? C'è una moto qua! Di chi? C'è una moto qua! C'è una moto tutta per su! Beh, è scinta, dai, c'è un po' da! Che ronda è! La moto della ragazza! Che succede? Dai, scendiamo! Non lo dà, metti il mezzo! Mettiti in mezzo, girati! Eh sì, ecco, ora facciamo anche una! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Stai stancato un po' qua! E' un marci indietro secondo me! Chi è che sei cantato da un'altra? Eh, il pastore sicuramente! E' un marci indietro, lui! Eh, c'è una lì! Oh, sì! E' un'altra? E' un'altra? C'è una moto? Ecco, ci stai... E' un'altra? E' un'altra? E' un'altra? È un'altra? E' un'altra? Che cosa succede? E' un'altra? E' lo risolto? Si, si Ma è scomodo la scende adesso? Ma è stato girato le moto E' inmakers La buggy sto malato tendo ad un cavalletto, capi? Ma è scomodo la scende adesso No sta senza messi in moto ci hanno in sta moto non abbiamo una moglie non è non è non è Gallitelli Gallitelli quanti chilometri abbiamo fatto? Non potevo roteva all'ora E che tu perchè si? E questo voglio un po' E questo voglio un po' E questo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.